www.castelloincantato.it La notizia Corre in rete Nella chiesa di Santa Maria di Gesù a Mussomeli la svelazio dell'immagine del gesuita padre Enrico Deodato La notizia I miei allievi della scuola di Santa Maria all'epoca cantavano il tedeum insegnato da padre Enrico Deodato I miei allievi della scuola di Santa Maria all'epoca I miei allievi della scuola di Santa Maria all'epoca I miei allievi della scuola di Santa Maria I miei allievi della scuola di Santa Maria I miei allievi della scuola di Santa Maria all'epoca I miei allievi della scuola di Santa Maria all'epoca I miei allievi della scuola di Santa Maria all'epoca I miei allievi della scuola di Santa Maria all'epoca I miei allievi della scuola di Santa Maria all'epoca I miei allievi della scuola di Santa Maria all'epoca I miei allievi della scuola di Santa Maria all'epoca I miei allievi della scuola di Santa Maria all'epoca I miei allievi della scuola di Santa Maria all'epoca grazie a tutti 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 grazie a tutti